Buongiorno a tutti, mi presento, sono Antonella Chiurco, sono felice di lasciarvi qui questo messaggio in quanto ho partecipato al Festival Fruttamami due anni fa. Nella vita faccio una professione particolare, sono consulente professionale in allattamento materno e cioè aiuto le donne, madri, ad allattare col proprio latte i propri bambini. Le aiuto anche inoltre a crescere in maniera armoniosa anche attraverso un sano svezzamento. La mia professione è misconosciuta, pensate voi che molti professionisti pediatri, ostetriche si occupano di allattamento, ma andare per le case a domicilio dopo il parto caratterizza la mia professione. Purtroppo in questo momento ciò non mi è possibile e pensate che bello riesco a sostenere le donne che allattano anche attraverso una chiamata su Skype, Zoom e tutte le piattaforme possibili. In questo momento così difficile allattare è veramente necessario. Allattare al seno significa offrire tutto il proprio patrimonio immunitario e fa sì che la mamma anche offra tutte le attenzioni, la vicinanza, la grazia, la bellezza, la gentilezza nel nutrire, nel crescere. In un momento anche così difficile di crisi economica allattare è anche gratuito e profondamente ecologico e quindi la mia professione è veramente importantissima. auguro a tutte le persone che mi vedranno di vivere questo momento come un momento di grande consapevolezza verso il senso di appartenenza al pianeta Terra che per troppo tempo è stato misconosciuto. Dobbiamo renderci conto di essere tutti, assolutamente tutti noi, responsabile del futuro, della Terra e della società. Vi saluto, vi mando un augurio di cuore per poterci incontrare presto a Fruttamami a Milano. Un saluto e un bacio a tutti.